A che tempo fa gli spazzolini da denti si rifiutarono per un certo periodo di fare il loro lavoro. Erano stanchi di sentirsi trascurati, nessuno pensava al loro stile di vita, costretti ad essere confinati nei bicchieri sulle mezzo delle stanze da bagno, dove vedevano solo la luce accecante dei neon, dove dovevano sorbirsi le pozzette dei bambini, e dove alcuni di loro andavano in crisi respiratoria. Ogni qualvolta i signori adulti si scaricavano attosso quantità enormi di deodoranti spray. Disgustati poi dal sapore del solito dentifricio, non ne potevano più, decisero di far sentire la loro voce. La Federazione Italiana Spazzolini Trascurati proclama lo sciopero. Gli spazzolini prepararono le loro valigie e i loro tronners, e partirono alla volta di posti di vacanza da sogno. Andarono negli agriturismi, dove poterono godere della salubrità dell'aria, e straiarsi al sole al bordo delle piscine. Un gruppo di spazzolini decise di fare un'escursione in un bosco. Lungo i settieri affiancati da ruscelli e canterini, scorsero dei cespugli di erbe. Il loro gradevole odore attrae gli spazzolini, che ne raccolsero alcuni soletti. Alcuni spazzolini ne assaggiarono qualche fogliolina, e la trovarono squisita. Un lampo di genio attraversò la loro mente, e pensarono di suggerire agli scienziati di laboratorio natura, di aggiungere queste erbe agli ingredienti della pasta dentifricia. L'idea fu accolta, e gli spazzolini ritornarono al loro lavoro più contenti che mai. L'idea fu accolta, e gli spazzolini ritornarono al loro lavoro più contenti che mai. L'idea fu accolta, e gli spazzolini ritornarono al loro lavoro più contenti che mai. Grazie per la visione!